Mentre i calciatori si godono le vacanze e in realtà per niente meritate, fra poche ore Pescara avrà il suo allenatore Marino e non poteva essere altrimenti per una città di mare. Il cinquantenne tecnico siciliano Pasquale Marino appunto è a Pescara da due giorni, ha firmato il contratto biennale e è andato a visionare il ritiro estivo di Rivisondoli, partenza tra meno di un mese e ha già dato il benestare alle prime trattative con giocatori che vestiranno la maglia biancazzurra. Infatti il DS Giorgio Repetto ha aperto il suo nutrito taccuino, tanti anni da osservatore per il Chievo Verona, tanti nomi di giovani interessanti. Il primo acquisto è il 21enne difensore Dario Zuparic, nazionale della Croazia Under 21 con contratto pluriennale e poi tante trattative come quelle per gli attaccanti Diego Falcinelli, reduce da un'ottima stagione a Lanciano e tornato al Sassuolo e Antonio Piccolo, 25enne esterno tra gli artefici della salvezza dei Frentani. Per riscattarlo da Livorno bastano 300 mila euro, se non lo farà il Lanciano potrebbe farlo il Pescara. I biancazzurri hanno quasi 40 giocatori sotto contratto, occorrerà dare una sfoltita, pochi coloro che resteranno dopo che Marino li avrà valutati. Domani mattina l'incontro con la stampa allo Stadio Adriatico, poi dopo mezzogiorno la presentazione dell'allenatore ai tifosi al porto turistico, ricordando che il campionato di Serie B ricomincerà il 24 agosto e che, curiosità, ma era già stato così nella stagione appena terminata, tra prima di Natale e Capodanno si giocherà per ben tre volte.